Voga 2016. Come festeggiare il compleanno? Domanda certamente funzionale, visto che fra un mese, il 18 settembre, sarà il compleanno di Bramble. No, sto scherzando, il 18 settembre sarà il mio compleanno. E la domanda è molto particolare, perché il 18 settembre 2016 quest'anno sarà il mio quarantesimo compleanno. Per questo sto abbracciando Bramble, per sentirmi un po' meno vecchio di quello che sono in realtà. E comunque la domanda funziona per davvero. Come dovrei festeggiare il mio compleanno? Perché io non ho nessuna idea, quindi lo chiedo a te. Dammi qualche consiglio nei commenti qua sotto, vediamo in che modo potrei festeggiare il compleanno. Qualsiasi consiglio va bene, vediamo se posso metterlo in pratica. Non lo so, pensi grappoli di palloncini dovunque, anche se sono 40 anni, perché no? Tanto poi io e gli orsetti li scoppiamo tutti, ma questo è un altro discorso. Oppure, non so, una festa con gli amici in piscina, sempre che non stia diluviando. Oppure una bella live su YouTube, che comunque penso di fare ad ogni modo. Beh, non lo so, ripeto, se hai qualche idea per come festeggiare il compleanno, oppure vuoi raccontarmi come hai festeggiato il tuo compleanno, dai commenti qua sotto, sono curiosissimo. Io sono Grizzly, questo è Vogue 2016, e noi ci vediamo domani.